Nei giorni scorsi dall'ospedale Moscati di Avellino è giunto l'appello alle donazioni per una gravissima carenza di sangue a causa della quale si rischia la sospensione degli interventi chirurgici in elezione. All'SOS la cittadinanza ha subito risposto ma il servizio immunomatologia e medicina trasfusionale non è stato altrettanto solerte nell'organizzazione. L'appello è arrivato venerdì e sabato mattina. Già ci avevano segnalato che al numero indicato nel servizio andato in onda non rispondeva praticamente nessuno e lo stesso è successo ieri mattina. Dopo alcune ore il problema della prenotazione telefonica è stato risolto e ci è stato detto di informare i cittadini che comunque era possibile recarsi direttamente in ospedale per la donazione. Piano terra della città ospedaliera settore B dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e così stamattina all'ospedale Moscati per la donazione di sangue alle 9 erano presenti già una sessantina di persone compresi alcuni di noi. Qualcuno era in attesa già dalle 8.00 a ricevere i donatori due operatori un addetto alla parte burocratica e un altro che effettuava i prelievi. Di fronte a questa situazione tante persone sono andate via e questo come ci ha riferito qualcuno dei presenti si è verificato anche ieri. Non è possibile che di fronte ad un'emergenza così grave per la quale si fa appello alla cittadinanza non si organizzi un servizio all'altezza nel momento in cui si chiede alle persone di recarsi con urgenza a donare. È grave non mettere in conto un'affluenza massiccia di gente. Queste disfunzioni, come detto, ci hanno state già segnalate nella mattinata di sabato. Abbiamo preferito però aspettare qualche giorno prima di dar voce alle lamentele delle persone nella speranza che i problemi venissero risolti. Avere difficoltà nelle prime ore a gestire le prenotazioni telefoniche e i numerosi prelievi ci sta. Ma se dopo quattro giorni dall'appello ci sono ancora problemi allora c'è qualcosa che non va. E per l'ennesima volta il prezzo più alto rischiano di pagarlo i cittadini che dovessero avere necessità di una trasfusione o un intervento chirurgico. Grazie. 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 Grazie.